La passione dell'Ippica non languisce sulle rive del Tamigi. Ecco la competizione per il derby 1934, voltosi alla presenza dei reali d'Inghilterra e di un pubblico d'ogni categoria, animato dallo stesso fervore che fino dalle prime ore del mattino lo spinge alla caccia di posti migliori. A presto di video, Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti